Ciao carissimi e carissime, benvenuti a tutti su Gold Unicorn Art. Anche oggi andremo a fare una stesa sull'amore, però tutta rivolta sul pensiero. Quindi cosa sta accadendo nella sua testa? Andremo a vedere cosa pensa, cosa pensa di te, cosa pensa di fare con te, se pensa di venire da te e quindi faremo tutti gli approfondimenti. Quindi useremo due mazzi, uno per la stesa numero 1 e uno per la stesa numero 2. Naturalmente questi sono i mazzi principali perché poi aggiungerò altri mazzi. Per esempio la Sibilla, userò anche una delle Sibille per entrambi i mazzi. Vi ricordo sempre che trovate la mia mail sotto in descrizione per consulti con i tarocchi oppure la trovate anche nelle descrizioni del canale, nella descrizione del canale. Quindi stesa numero 1 e stesa numero 2. Andiamo quindi ad incominciare con la stesa numero 1. Allora eccoci alla stesa numero 1 per chi ha scelto questo mazzo. Incominciamo a vedere subito tre domande. Cosa pensa in generale? Cosa pensa nella sua testa di te? E cosa pensa di fare? E poi andremo a fare altre domande sul pensiero. Quindi metto giù delle Sibille e poi sopra l'altro mazzo. Allora, cosa pensa in generale di te la persona a cui pensi? Allora è una persona che si trova in un momento di difficoltà perché è come se avesse perso energia in questo momento e forse proprio anche non sentendoti è dispiaciuto di questo. Forse per alcuni di voi c'è del silenzio, per alcuni di voi invece ci sono stati dei messaggi poco chiari e quindi in questo momento questa persona comunque non pensa solo a questo, pensa anche che è un momento di diversità mi viene da dire della sua vita, insomma un momento un po' delicato. Quindi certo è collegato anche a voi perché le carte sono per voi, però andiamo un po' a metterci delle altre carte. Sì, molti di voi sono in silenzio con questa persona, però ecco, sì, adesso capisco meglio, no? Questa persona sta assolutamente pensando a voi e quindi questo momento in cui si sente un po' in difficoltà è proprio dovuto a qualche messaggio che vi siete mandati oppure al silenzio. Qualcuno di voi ha avuto delle reazioni proprio di no contact, mi viene da dire, nei confronti di questa persona, forse in reazione a qualcosa che lui aveva detto o vi aveva, diciamo, ferita in qualche modo. Ecco, quindi questa persona direi che in questo momento è proprio in un momento di dispiacere per voi. Assolutamente, c'è proprio questa carta anche rappresentativa proprio di uno stato d'animo della tristezza. Tra l'altro questa persona sa che siete tristi anche voi per tutta questa situazione. direi che comunque sempre nel suo pensiero sente che nonostante in questo momento siate in crisi sente e spera che tutto ritorni leggero come poteva essere all'inizio. Vediamo cosa pensa nella sua testa proprio di te. Beh, questa è una persona che si sta tormentando proprio per gelosia. Proprio, devo dire, che qui c'è proprio sia la carta della fedeltà con sopra la carta della gelosia. Quindi, o siete gelosi voi, o è gelosa la persona a cui state pensando, fatto sta che questo è proprio ciò che ha portato ad un punto fermo in questo momento. quindi c'è proprio un tormento. Direi che a questo punto è molto collegata a questa carta iniziale che è venuta con questo malessere, diciamo, suo. Quindi questa persona pensa forse che voi non gli avete raccontato tutto. Anzi, chi si è messa in silenzio con questa persona fa pensare proprio a questa persona che voi abbiate altro da fare in questo momento oppure viceversa, perché in questo momento siamo in un interattivo, quindi può essere in un modo o nell'altro. Quindi, però, siccome qui stavamo guardando proprio cosa pensa nella sua testa di te, questa persona pensa che tu sei una persona che piace molto, che attiri gli altri, proprio così il pensiero classico del geloso, no? Cioè, pensa che tu piaci agli altri, agli altre persone come piaci tanto a lui. Ecco, quindi questa persona immagina, pensa che tu sei una persona bella, una persona generosa, una persona che affascini gli altri. Quindi, insomma, proprio i classici pensieri, diciamo, del geloso. Ma devo dire che sia qui che qui questa persona non solo ti pensa, ma pensa anche che tu sei proprio una persona bella dentro, sei la persona, diciamo, del suo cuore. Questa è una persona che pensa di offrirti molto. È una persona molto, comunque, focalizzata sulla testa, in generale. Devo dire, questa persona è molto mentale, quindi sono tutti pensieri che affollano la sua mente. E pensa anche di venire verso di te, però deve sentirsi un po' meglio, perché tutti i suoi pensieri in questo momento di tormento non è che gli fanno fare proprio dei movimenti verso di te. Pensa però di farli. Andiamo a vedere, a proposito, proprio cosa pensa di fare, visto che sta pensando di venire. Vediamo un po' di più su questo. Sta pensando di venire? Allora, questa persona vuole venire superato questo momento di crisi, diciamo, perché non vuole farvi vedere che la sua gelosia, diciamo, è così accentuata. Quindi, alle volte le persone sono gelose, non perché voi avete fatto necessariamente qualcosa, ma è proprio una natura gelosa, qui mi viene, di questa persona. Quindi questa è una persona che ha l'idea che la sua compagna o il suo compagno gli deve dire un po' tutto da quello che vedo nell'insieme delle cose. Quindi è proprio la sua mentalità, visto che anche questa stesa è proprio focalizzata sul pensiero. La mentalità di questa persona è che se lui è il vostro signore, il vostro amore, non dovete fargli dubitare mai nulla. Però una persona così, secondo me, dubita anche quando non c'è da dubitare. Comunque qui la base è questa. Quindi, ritorniamo a cosa pensa realmente di fare. Adesso è ancora, anche questa carta mostra molta tristezza, quindi ancora in questo momento di tristezza, vuole forse appurare che forse i suoi sono solo pensieri esagerati rispetto a una situazione. Però questa è una persona che è anche un po' gelosa della vostra allegria, alle volte, del vostro stato d'animo. Insomma, un po' una persona appunto molto nella testa. Comunque io direi proprio che cosa pensa di fare un movimento che qui viene, che secondo me lo farà bene, diciamo, questo movimento. Lo vuole fare fieramente, senza farvi notare che ha tutte queste crisi interiori. E poi, però, secondo me, vi comunicherà anche un po' qual è il suo pensiero di coppia. Il suo pensiero di coppia, cioè che due persone si devono un po' dire tutto, che devono essere fedeli uno all'altro. Quindi, adesso a me viene da dire, visto che questa persona è molto concentrata sulla sua testa, voglio vedere un po' se cuore e testa avranno un collegamento. Questo è molto importante, perché una persona basata solo, tutta l'energia concentrata solo nella sua testa, ha bisogno poi anche di farla scendere nel cuore, perché, se no, poi possono nascere delle incomprensioni anche. E voi stesse avete bisogno anche di sentire il calore del suo cuore. Allora, vediamo un po'. E' intelligenza, quindi anche questa carta mi conferma che è una persona, appunto, molto pragmatica, quindi tutta riversata sul pensiero. Eh sì, è proprio nel suo pensiero, nella sua testa, che deve conquistare la fiducia. La fiducia è un po' in generale, no? Ma anche nella coppia, no? Quindi dovrebbe un po' calmare i suoi pensieri, no? Ma secondo me, sì, lui ha preso coscienza di essere tutto nella testa, e quindi anche poi di controllare le emozioni, tanto è vero che qui mi esce la carta della meditazione, quindi di una persona che ha intenzione di fare poi un lavoro, diciamo, che lo porta a scendere più nel suo cuore, che darebbe anche più soddisfazione a voi, eh? ovviamente, perché ci sarebbe più comunione, più comunicazione. Sì, questa è una persona che sa che comunque deve raggiungere, per entrare nel suo cuore, un'indipendenza un po' affettiva. Tende, proprio per questi pensieri che le carte hanno espresso, a, nascondendovelo però, a diventare un po' dipendente, quindi potrebbe avere delle reazioni inaspettate, diciamo, che non vi mostrano dell'amore, appunto, no? Ma che vi mostrano una persona che magari si allontana, e voi non riuscite a capire perché. Quindi, questa persona sa che deve raggiungere, per avere fiducia, quindi, un'indipendenza affettiva, perché così potrà lasciarsi andare e scendere, quindi, nel suo cuore. Allora, voglio un po' vedere, visto che volevo vedere se pensa di venire da te, ma lo hanno già detto, quindi in questo caso io voglio un po' vedere, poi, visto che questa persona comunque si sta preparando anche per se stessa a stare meglio, a non essere così instabile, appunto, qui c'è un po' di instabilità, no? Quando una persona è tutta concentrata nel pensiero, anche perché voi non sentite il flusso amoroso che vorreste sentire da questa persona. In certi momenti lo sentite, perché in certi momenti ci riesce a andare sul cuore, ma poi ritorna nel pensiero, quindi in certi momenti voi sentite questa instabilità, anche un'instabilità futura, e certamente bisogna avere molta pazienza con questa persona, però, secondo me, il lavoro bene lo farà. per adesso avrà bisogno, naturalmente, della vostra accoglienza, della vostra accettazione. Alla fine, con la vostra accoglienza, la vostra accettazione, questa persona riuscirà a scendere nel suo cuore, secondo me, e a mostrarvi delle emozioni, perché vedo che a un certo punto voi siete contenti e soddisfatti, quindi secondo me riuscirete a capire la complessa, diciamo, personalità di questa persona, quindi alla fine, secondo me, sarete soddisfatti, però, vi dico, potrebbe anche non dimostrarvi subito quello che voi vi aspettate, quindi, bene, direi che il suo pensiero, cosa c'è nella sua testa, siamo andati a vederlo bene, tutto, e a questo punto possiamo passare alla seconda stesa. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto. Eccoci alla seconda stesa, quindi andremo a vedere tutto il suo pensiero, cosa sta accadendo nella sua testa, cosa pensa, cosa pensa di te, cosa pensa di fare, se viene da te, quindi, andiamo ad incominciare con queste sibille e poi ci mettiamo sopra questo mazzo che avete scelto, quindi, andiamo ad incominciare cosa pensa in generale, cosa pensa nella sua testa di te e cosa pensa di fare con te. Allora, questa è una persona tutta concentrata sul lavoro, sulle sue cose, come pensiero in generale, qui andiamo a vedere già cosa pensa di te e cosa pensa di fare, però, intanto, dicono che questa persona è molto concentrata adesso sulla sua vita lavorativa, sulla sua vita pratica, gli è successo qualcosa, ma non di brutto, qui sembra che gli sia successo qualcosa di bello a livello lavorativo, quindi, ha ricevuto delle buone notizie, adesso ci andiamo comunque a mettere delle altre carte, ha ricevuto delle buone notizie, ha ricevuto delle proposte anche abbastanza inaspettate, quindi, qui abbiamo una persona che è piuttosto soddisfatta, almeno per quanto riguarda la vita pratica, il focus in questo momento è proprio sulla sua vita pratica, quindi, andiamo un po' a metterci delle carte, così sapete in questo momento cosa sta pensando questa persona, sì, è importante per questa persona il lavoro, diciamo che questa persona si sente rilassata quando è concentrata sui suoi obiettivi, quando è concentrata nella sua vita, quindi, qui, in questo momento, così come generale, come persona, abbiamo una persona che gli piace faticare anche direi, quindi abbiamo una persona che è rilassata quando lavora, che è concentrata sul lavoro perché gli è arrivata appunto una buona notizia, una persona che tutto sommato gli piace raccogliere i frutti del suo lavoro, una persona che spende anche molto del suo tempo o con grande soddisfazione vedo anche lavorare, però pensa anche all'amore. Bene, quindi adesso andiamo a vedere cosa pensa sempre nella sua testa di te. Allora, questa è una persona che pensa che tu sei una persona che vali, una persona alle volte pretenziosa, alle volte pensa che comunque tu meriti anche un certo tipo di vita, visto che questa persona te la voleva almeno perché adesso te la voleva offrire questo tipo di vita. Comunque gli piace molto a questa persona frequentare gli amici insieme a te, pensa che tu sei una persona che hai tante belle conoscenze che che a questa persona appunto piace, questo tuo modo di vivere, questo tuo modo di pensare, quindi ti vede una donna un po' distante dalle cose, un po' distante dal mondo, una donna che anche lo rispecchia abbastanza perché ti vede comunque anche come una donna pratica direi, e lui vuole pensa che tu appunto sei una donna anche che vali che hai un bel posto in società ecco quindi che vale la pena frequentare e comunque qui abbiamo visto che lui pensa anche all'amore vediamo un po' di più sull'amore perché vedo che ti vede un po' una donna altera adesso lui sente che tu alle volte sei stata un po' fredda con lui e lui anche lui è stato con te cioè alle volte pensa che siete tutte e due entrambi freddi quindi alle volte siete tutte e due pungenti insomma alle volte siete anche troppo simili voi per adesso qui parlano proprio di pensiero anche qui come nell'altra stesa manca un pochino di calore andiamo un po' a vedere che cosa pensa di fare con te comunque poi approfondiremo un attimo altre cose allora cosa pensa di fare questa persona ma in questo momento una parte di lui vorrebbe sentirti tutto sommato perché comunque la tua compagnia gli fa molto piacere però diciamo che la vostra relazione manca questa relazione come si vede manca un po' ingrediente particolare perché nello stesso tempo vedo che tutte e due vi specchiate in un carattere un po' troppo diciamo dura alle volte no quindi questa persona ti vorrebbe chiamare ma non lo fa non lo fa perché in questo uno dei due deve cedere ecco alle volte siete troppo simili questa persona decide di non farlo perché si è impuntata su qualcosa andiamo un po' a vedere di più su qualcosa nonostante ti dico pensa ti pensa ecco questa persona ti pensa pensa alla relazione con te no però vedi c'è chiusura c'è comunque chiusura in questo momento no eh pensa che forse in questo momento è un po' un destino che voi abbiate questa distanza però devo dire che nonostante tutto voi siete comunque due persone che potreste stare insieme anche se non siete almeno in questo periodo della vita non siete proprio si può dire due passionali eh quindi potreste stare insieme però appunto diventa una relazione un po' più basata sull'esterno ecco se voi diciamo ecco se voi continuate però a rifrequentarvi che adesso andiamo un po' a vedere se vi rifrequentere comunque questa persona ha intenzione di venire da te perché dice no adesso io voglio fare delle mosse però secondo me col tempo la vostra relazione può diventare veramente forte e anche una relazione poi di cuore ecco quindi col tempo con la frequentazione con le vostre affinità no per adesso siete tutte e due un po' raffreddati uno con l'altro quindi lui attualmente non ha intenzione di fare delle mosse dicevamo quindi a questo punto a me viene un po' da andare a vedere con queste carte visto che comunque c'è un buon potenziale questa persona in proiezione futura sempre nel suo pensiero dice però nel tempo io e questa persona ci potrei anche se adesso siamo in difficoltà diciamo nel tempo io e questa persona ci potremmo anche veramente innamorare perché siamo anche molto simili siamo fatti uno per l'altra no più che altro perché avete anche una visione simile di vita però qui mi dicono che questi suoi pensieri sono più una speranza che un fatto cioè io qui per adesso un vero fatto non lo vedo cioè vedo una persona appunto che pensa che pensa che deve accadere come dice qui un po' un miracolo cioè deve accadere qualcosa perché voi vi avvicinate da un punto di vista emotivo più profondo siete tutti e due un po' controllati lui pensa al lavoro voi probabilmente anche o comunque lui vi vede come una donna appunto che pensa anche al lavoro perché a lui questo farebbe molto piacere sì lui lui dice ma poi questa è una persona che la pensa un po' così ma poi col tempo l'amore viene ecco viene spontaneo ed effettivamente può accadere da come dicono queste carte non ha tutti i torti tutto sommato questa persona vediamo un po' vediamo un po' la liberazione sì bisogna un po' liberarsi diciamo da certi certi stereotipi mi viene da dire no forse appunto avete incominciato tutto basato su ci piacciamo ma abbiamo tutte e due paura di lasciarci andare quindi abbiamo bisogno di liberarci anche da molti condizionamenti diciamo no e anche di un carattere un po' simile che è io non faccio la prima mossa secondo me prendo un'altra di queste perché ogni stesura è diversa sì avete bisogno anche di dirvi un po' le cose come stanno di sapere la verità uno dall'altro secondo me avete bisogno di parlare un po' di più di conoscervi più a fondo allora vediamo un po' alla fine adesso qui non questa persona decide di appunto non fare dei movimenti per le cose che abbiamo visto però è anche vero che poi c'è questa carta che mi dice che poi voi potreste veramente scendere nel cuore uno con l'altro quindi vediamo adesso questa persona è ferma voi abbastanza anche si occupa delle sue cose come abbiamo visto qui pensa alla relazione un po' rimandando il tutto vediamo poi se alla fine questa persona pensa cambia idea cioè non dice sto fermo e basta ma secondo me questa persona poi viene perché alla fine voi siete la sua donna speciale mi viene da dire o il suo uomo speciale quindi davvero questa persona pensa col tempo poi l'amore nasce con la frequentazione con il conoscerci di più passando un po' attraverso la testa quindi abbiamo voluto guardare tutti i suoi pensieri cioè cosa pensa nella sua testa cosa pensa in generale cosa pensa di fare e le carte hanno sentito l'energia molto di pensiero e sono andate in questa energia di pensiero quindi tutto sommato poi anche se effettivamente le carte sono un po' ferme però ci sono queste carte che mi fanno ben sperare che alla fine questa persona fa un movimento oppure può anche essere che voi lo facciate questo movimento però lo fate al momento giusto che lo facciate al momento giusto quando questa persona è più aperta perché adesso secondo me uno aspetta un po' la mossa dell'altro e anzi io direi in questo momento non farei direi azioni diciamo che questa persona adesso è ancora nella fase un po' di chiusura quindi io aspetterei un momento più opportuno lo percepite quando è il momento più opportuno sentite come una sorta appunto di liberazione come veniva prima sentirete come una sorta di leggerezza ci sarà proprio una guida che vi dirà quando è il momento giusto se magari volete fare voi un'azione per almeno vedervi chiarirvi approfondire quello che volete uno dall'altro quindi io direi che arriva proprio l'energia non arriva subitissimo secondo me avete bisogno adesso di stare fermi entrambi di chiarirvi ognuno un po' dentro se stesso quindi dal momento che appunto poi la stesa finisce con le stelle direi che alla fine tutto e anche le carte precedenti tutto fa pensare che poi i vostri pensieri reciproci cambino nei confronti uno dell'altro e che si aprano arriva quella luce state tranquilli arriverà però aspettate un momento mi viene da dire quindi carissimi io vi ringrazio dell'ascolto e a risentirci a presto a presto